Riuscirà la centrale l'obiettivo? La risposta tra poco su EA Sports Gara in notturna sotto a un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di EA Sports Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida UEFA Champions League che entra nel vivo con l'andata delle semifinali Mi aspetto una partita fantastica Lele Chiaramente entrambe le squadre vorrebbero continuare la loro avventura in questa UEFA Champions League Vorrebbe dire finale La semi inizia oggi con la prima Immobile! Non la tiene Noyer, attenzione Palla che finisce docile tra le braccia del portiere che qualche sette fa è stato davvero protagonista Se non fosse stato per lui avrebbero preso gol Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci Si libera del proprio marcatore Peripe Anderson Grande intervento del portiere Ecco l'undici titolare della formazione di casa Porta affidata a Provedel Difesa composta da Patrick con Romagnoli Luis Alberto insieme a Ghedussi come interno di centrocampo E Ciro Immobile schierato come unica punta Davies Si appoggia dietro Buono intervento del portiere Buono intervento del portiere Difesa sotto pressione Ci sarà nuovamente calcio d'angolo Buono intervento del portiere Buono intervento del portiere Palla alla difesa Ferma tutto con un gran tackle Palla per Sané Si propone Musiala Appoggio su Coman Può battere a rete 1-0 Si sblocca dunque la semifinale Vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol Bella la giocata all'indietro del compagno A tu per tu col portiere lo ha fulminato con una conclusione potente Sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla Poteva scegliere una soluzione più elegante Forse sarà per la prossima volta Dai Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Gendussi Arbitro non ferma il gioco C'è il vantaggio Gendussi Ecco Sané Goretzka Grande apertura Attacco che si fa interessante Ferma tutto con questo intervento rischioso Felipe Anderson Gendussi Pallone per Immobile Attende il momento giusto per scaricare il pallone Apre su Rovella Interviene al momento giusto e recupera Lo supera senza problemi Tocco per Luis Alberto Goretzka Difesa scoperta Ha spazio per andare Che palla che è riuscita a intercettare Ecco Mosiala Palla su Kane Il portiere chiude la porta E disinnesca questa conclusione Stava già per risultare E non sarebbe stata la prima volta oggi Bravo e attento l'estremo difensore Kisley comanda Intercetta la conclusione Pericolo scampato Ancora un calcio d'angolo Palla in area di rigore Bravo qui il difensore che allontana Possono ripartire Attenzione Affonda il tackle e recupera il pallone Prova ad aprire verso il compagno Mattia Zaccagni C'è il tocco per immobile Super intervento del portiere E ha salvato Porta e risultato Corner importante Potrebbero fare già riconti Se lo sfruttano dovere I tifosi capiscono il momento E aumentano il numero dei decibel Occhio al corner Senza problemi Portiere sulla traiettoria L'arbitro dice che può bastare Si chiudono i primi 45 Primi 45 Favolosi Per Harry Kane Può essere soddisfatto Della sua prova Ha chiuso avanti La prima frazione Grazie a un suo gol E a parte questo Si è dato parecchio da fare Comincia la seconda frazione Col Bayern Avanti di una rete Ballone interessante Approvato la conclusione al giro Si buona l'idea Decisamente bene l'esecuzione Palla che non ha preso L'effetto desiderato Determinata lontana dai pali Ha letto bene l'azione Sulla traiettoria del passaggio Avanzano dalla tre quarti Avversaria Luiz Alberto Mattia Zaccagni Ha un'autostrada Davanti a sé Lugino Qui è un cordiere Ha tenuto gli occhi Incollati sul pallone E ha salvato la propria borta Ma nel portiere Vediamo se ne approfittano Ghendussi Apre su immobile Ghendussi Cerca il cucchiaio Salvataggio sulla linea Lascia partire il cross Capisce tutto il portiere Che spezza questa trama C'è l'errore del portiere Vediamo se la sfruttano Ghendussi Ancora il tocco per Felipe Anderson Cross intercettato dalla difesa Intercetta palla Vediamo se la sfruttano Immobile Il retro passaggio Donatia de Neuer Attenzione La spazza via Marosic Intervento fondamentale Intervento fondamentale Palla per Sané Grande recupero Mattia Zaccagni Romagnoli Luiz Alberto Apre su immobile Nuovo possesso Per gli avversari C'è spazio Per il contropiede Cerca il compagno Qui Musiala Harry Kane E c'è il gol Gol Vada più due Azione del gol Che merita di essere rivista Contropiede Micidiale direi Non ha tremato Di fronte al portiere Ha caricato la botta E l'ha messa in rete Niente da fare Per l'estremo difensore Match che riprende Anallungato Portandosi sul 2-0 Patrick Seicento secondi da giocare Ancora Coman Occhio a Kane Attenzione Attenzione Harry Kane Ottimo intervento Nel portiere Felipe Anderson Ciro immobile Apre su immobile Pallone che esce Si riprenderà con un calcio In angolo È il momento del cambio Pallone in mezzo Pallone in mezzo Pallone in mezzo Pallone in mezzo Si giocherà ancora per 120 secondi Musiala Occhio a Coman Stanno vincendo E possono dunque Permettersi Questo tipo di possesso Palla nel finale Attenzione Harry Kane E c'è la rete La tripletta Una giornata speciale Per lui Un replay per festeggiare La sua terza Prodezza personale Hat-trick Oggi è davvero Imarcabile E chissà che non possa Puoi farne altri Partita che finisce qui Vittorio del Bayern È ovviamente Soltanto il primo round Ma è un vantaggio importante Conquistano questa Semifinale d'andata Ed è una bella prestazione Che lascia ben sperare Per il mezzo di ritorno Hanno in mano Il proprio destino L'unico errore Potrebbe essere Quello di credersi Già in finale E lì il tecnico Che dovrà essere bravo Tenere la squadra concentrata E smorzare facile E entusiasmo